Troi il treno Ciao Troi, vai verso la città questa sera Mmm, sembra così buio Oh, guardala Oh, ciao Tim, ci siamo andati vicino Sai perché è così buio? Un blocco dell'energia ha rotto Questa è probabilmente la ragione per cui non c'è più luce in città Grande idea Troi, andiamo a vedere che cosa può fare Teddy Torniamo presto Tim, tieni duro intanto Ciao Teddy, c'è un blocco dell'energia rotto a Train Town E tutte le luci sono spente Hai qualche idea? Oh, è meraviglioso E allora iniziamo Nooo Nooo Oh, un generatore extra! Un'ottima pensata! 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 Un'ottima pensata!